Sarà una manovra da 12 miliardi quella per il 2018-2020 contenuta nella legge di bilancio 8,3 stanziati dal Fondo Sanitario Nazionale per la Sanità Regionale 1 miliardo e 400 milioni di investimenti per la crescita 33 milioni recuperati dalla riduzione della spesa questi numeri del bilancio della Regione Emilia-Romagna votato dalla maggioranza stavolta compatta senza strappi a sinistra come successo per la legge urbanistica nessun aumento delle tasse, reddito di solidarietà, attenzione al territorio e al dissesto idrologico rivendica la stessa maggioranza è un bilancio ancora di austerità ma che riesce però a fare alcune scelte importanti più risorse per il lavoro, per le imprese, per l'export soprattutto più risorse a sostegno del turismo però mantenendo il welfare pienamente e anche più risorse per la protezione civile e la difesa del suolo in aula il presidente Stefano Bonaccini ha parlato anche di un preaccordo a gennaio col governo Gentiloni per l'autonomia così se dopo le elezioni il nuovo Parlamento non dovesse concederla ha detto il governatore riempirei io i pulmoni per andare a Roma a rivendicare ciò che abbiamo richiesto tornando al bilancio invece è scontato il no delle opposizioni si cerca di far pensare che la disoccupazione sia in diminuzione quando in realtà i dati poi nel dettaglio ci dicono che i contratti di qualità a tempo indeterminato sono in calo e anche le trasformazioni sono in calo quindi dal nostro punto di vista servirebbe molto più coraggio nel cercare di sostenere il nostro sostrato economico produttivo soprattutto quello della piccola e media impresa che ai bandi europei fa molta fatica a partecipare sicuramente un bilancio fatto estremamente di corsa perché questa regione ha dovuto aspettare fino all'ultimo i dati che arrivavano dagli emendamenti del governo e che comportano sicuramente dei tagli che hanno dovuto fare un bilancio affannoso e soprattutto un collegato strapieno di articoli e di sistemazioni i 5 Stelle all'interno dell'approvazione del bilancio dell'Assemblea Legislativa hanno presentato un ordine del giorno votato anche da Forza Italia in cui hanno chiesto la sospensione dei fondi 900.000 euro alla consulta degli Emiliano Romagnoli nel mondo per evitare hanno sostenuto condizionamenti verso il voto all'estero dopo un duro botte risposta in aula il Partito Democratico ha bocciato la proposta